Come da tradizione anche quest'anno la pedalata dell'Avis Certo, certo, cerchiamo di non perdere le buone abitudini Come tutti gli anni la nostra bella biciclettata sperando che oggi il tempo ci conceda qualche ora di sole faremo il nostro consueto giro in maniera da far venire l'appetito alle persone che poi si ritroveranno questa sera come di consueto alla cena con la porchetta Qual è il percorso? Dunque il percorso prevede una dozzina di chilometri che raggiungeranno prima Rivarolo, poi Obiano, poi l'Argentera poi ci sarà la pausa, ristoro alle bene di Oglianico alla frazione bene di Oglianico poi torniamo a Favria e poi di nuovo Oglianico per un rientro intorno alle 18.30 Niente agonismo, una pedalata in amicizia con le famiglie? Sì, sì, certamente, certamente abbiamo vecchi e giovani, bimbi di tutte le età quindi no, niente di competitivo è per divertirsi e stare un po' insieme Un modo per celebrare la festa dell'Avis e la donazione che è importante Certamente sì, certamente sì infatti cerchiamo comunque in ogni modo di trasmettere il messaggio venite a donare il sangue perché è un gesto nobile e un gesto utile Prossima donazione in calendario? Allora vi aspettiamo il 14 ottobre come di consueto a partire dalle 8.30 qui in piazza Statuto Oglianico si dona qui a Casa Gilda siete i benvenuti vecchi donatori, nuovi donatori noi vi accogliamo tutti quanti 15 settembre, festa della Proloco di San Feliciano festa della Proloco di San Feliciano abbiamo cambiato un pochino il programma unendo quella che è la festa della Proloco anche con il gruppo ricreativo di San Feliciano che normalmente facevamo invece verso la fine dell'anno l'abbiamo anticipata un pochettino in una serata ancora con clima estivo e quindi speriamo sia una bellissima giornata cena sotto la tensio struttura di Casa Gilda e poi serata libera con la discoteca Mobile Energia serata aperta a tutti indirizzata nella seconda parte più a un pubblico giovane e speriamo che vogliano ancora una volta venire a fare festa con noi pertanto invito a tutti sabato 15 settembre ore 19 e 30 Casa Gilda Oglianico e ore 22 serata discoteca con discoteca Mobile Energia siete tutti invitati vi aspettiamo grazie 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 No, 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 no.